Questa mattina la presenza delle maggiori autorità civili, religiose e militari ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 degli istituti di formazione dell'aeronautica militare. Il generale di squadra aerea Silvano Frigerio, comandante delle scuole dell'aeronautica militare e comandante della terza regione aerea, ha illustrato gli avvenimenti maggiormente significativi e risultati più rilevanti che hanno caratterizzato l'attività degli istituti di formazione dell'aeronautica militare nell'anno appena trascorso. Al termine della relazione sono stati consegnati premi ai frequentatori che si sono particolarmente distinti per l'impegno profuso e i risultati conseguiti. L'Accademia si sta tra l'altro adeguando a quelle che sono le esigenze della Forza Armata in questo momento, quindi quelle delle nuove sfide. Ho citato prima lo spazio che è una delle sfide importanti ma anche le biotecnologie dal punto di vista sanitario e soprattutto quello di essere sempre al passo coi tempi. Diciamo che l'aeronautica militare è la Forza Armata che per vocazione è votata all'innovazione tecnologica. Oltre alla tradizione, infatti quest'anno si festeggia ogni cento anni, l'abbiamo fatto in diverse occasioni ed è giusto ricordare il valore e la storicità di questa Forza Armata, ma sappiamo che è sempre proiettata non al presente ma al futuro. L'aeronautica militare è forte delle sue tradizioni centenarie e devo dire che sono cambiate le persone ma non è mai cambiata la passione. Il nostro compito è quello di dare a loro la giusta motivazione, i giusti strumenti per continuare questo percorso di passione nel volo e tutto quello che è legato al volo. E di questo noi ne siamo orgogliosi e lo dobbiamo fare perché è un nostro obbligo.